A Vietri sul mare la mattina del 31 dicembre vuol dire cin cin e quest'anno al tradizionale brindisi tutti con qualcosa di rosso. Ti aspettiamo in piazza con musica, danza e divertimento per tutti. Cin cin in red e tanti auguri da tutti i commercianti di Vietri sul mare. Ci siamo. A poche manciate di ore dall'attesissimo capodanno, si stanno ultimando i preparativi per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno. Stabiliti i menù per il tradizionale cenone ed agghindati di tutto punto, sogni e desideri di tutti noi questa notte si mescoleranno con i sorrisi, i brindisi e gli scintillanti fuochi d'artificio. Sì perché nella notte di San Silvestro in molti non rinunciano agli spettacoli pirotecnici che salutano l'anno trascorso e danno il benvenuto all'anno appena iniziato. E dunque possiamo annunciare ufficialmente l'avvio dei festeggiamenti, riflettendo però su uno degli aspetti fondamentali. Fuochi e botti ok, ma con responsabilità, considerando la pericolosità determinata dall'uso scorretto dei fuochi d'artificio. E per essere sicuri di non mettere a repentaglio la nostra e la vita degli altri, abbiamo chiesto dei consigli all'esperto fuochista cavese Matteo Bonfiglio, che anche quest'anno ci ha illustrato poche semplici ma fondamentali raccomandazioni. Io voglio dire che si può sparare tranquillamente prodotti omologati che hanno subito una certificazione e tutto, però ci tengo a precisare e dire comprate i prodotti non da avventori che trovate in mezzo alla strada, bancarelle improvvisate, ma rivolgetevi sempre a persone qualificate nel settore, andate in negozi qualificati, fatevi spiegare sempre il prodotto che potete tranquillamente o sparare in casa, perché ci sono anche i prodotti che vanno fatti esplodere, diciamo così, tra virgolette, in casa, o quelli che vanno esplosi, diciamo, fuori. Ho portato qui una classica batteria comunemente che vendiamo noi, negozio qualificato. Allora ricordatevi delle regole ben precise. Innanzitutto il prodotto deve essere marcato CE, vicino al prodotto ci sta scritto l'utilizzo, ci sta scritto la scadenza, ci sta scritto il produttore e ci sta scritto come va tranquillamente adoperati. Questo prodotto, come tutti gli altri, hanno sempre, diciamo, una protezione della miccia verde, che è quella che va sempre accesa. Quindi ricordatevi di accendere sempre la miccia verde, perché questa qui è a lenta combustione, quindi dà la possibilità di allontanarsi tranquillamente. Mi dimenticavo di dire un'altra cosa, rispettate le distanze di sicurezza che su ogni prodotto vengono riportate. Se trovate la miccia nera, non l'accendete, perché questa qui è talmente veloce, non avete manco il tempo di rifiatare. Il prodotto come va acceso? Allora, bisogna metterlo a terra, inclinarsi e accendere la miccia. Non portare mai il corpo sopra l'artificio. Ed un pensiero va anche ai nostri piccoli animali a quattro zampe. Loro, infatti, possono festeggiare tranquillamente il Capodanno, perché, come ci spiega Matteo Bonfiglio, se si rispettano le norme vigenti in merito, i rumori cosiddetti molesti non creano nessun disturbo agli animali. È toccato un tasto un poco che può essere interpretato da tante persone in un modo sempre diverso. Ognuno la pensa. Voglio dire soltanto questo. Questi prodotti qua, che hanno subito comunque un'omologazione che a marcatura c'è, dove, per quanto riguarda i rumori molesti, ci sono delle tabelle che rispettano tranquillamente i decibel per i rumori che danno fastidio all'udito. Se vicino a ogni prodotto ci sta scritto la distanza di sicurezza dall'artificio, dal giocattolo pirico, bisogna rispettarlo. E quelle distanze lì, assolutamente, il rumore che emette non dà fastidio assolutamente a nessuno. Non raccogliete mai per strada fuochi inesplosi o fuochi che si fermano a metà o pensate di fare chissà che cosa. Chiamateci. Noi siamo a disposizione in qualsiasi momento e noi veniamo, sappiamo noi come trattare poi eventualmente l'artificio che o non è esploso oppure è esploso a metà. Ed intanto, con l'ordinanza numero 544, il sindaco di Cava di Tirreni, Vincenzo Servalli, ha emesso dei provvedimenti restrittivi per l'accensione di artifici pericolosi e non, vietando su tutto il territorio comunale ed in particolare nel centro storico e nei lughi pubblici il fare esplodere di petardi, mortaretti e botti di qualsiasi tipologia, ad eccezione dei giorni 31 e 1 gennaio 2020. Ed inoltre, negli esercizi commerciali di vicinato e sulle aree pubbliche è vietata la vendita di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3 e dei cosiddetti fuochi di libera vendita o dei classificati. Ricordiamo infine che per i trasgressori sono previste delle sanzioni.